buongiorno a tutti e benvenuti ancora una volta nella mia comfort zone e in questa pausa caffè ho deciso di parlarvi di una opportunità che ci dà maestro molto poco usata e invece a me è risultata molto utile in diverse occasioni di che cosa si tratta? Si tratta del taglio dei modelli cosiddetti lavoro che poi ci servono alla realizzazione dei dispositivi classici analogici che facciamo regolarmente in laboratorio provenienti da impronta digitale come sempre più spesso tra l'altro sta avvenendo come facciamo? Andiamo a vedere in pratica una volta inserite le impronte digitali con la procedura standard andiamo a tagliarle e a modificarle per il nostro uso allora spesso, cioè sempre praticamente, ci arrivano delle impronte soprattutto nell'inferiore che sono incomplete perché logicamente rilevare la zona sublinguale con uno scanner introrale è praticamente impossibile oppure abbiamo delle zone mancanti per cui fare un modello in una maniera classica diciamo produrrebbe poi un prodotto che in laboratorio risulta poco pratico per cui come facciamo? Per prima cosa dobbiamo andare ad aggiungere queste zone che sono zone mancanti e come facciamo? andiamo con un escamotage andiamo dalla sezione home, diciamo, quella con le tre linee di partenza del programma a realizzarci delle basi virtuali che non ci servono in quanto modello museo perché realizzare un modello di questo tipo in resina sarebbe particolarmente costoso ma ci servono soltanto per una funzione restaurativa quindi andiamo a spostare il nostro pallino azzurro perché è sempre quello che ci indica qual è la zona da tenere del modello ed andiamo a disegnare quelli che sono i limiti del modello che vogliamo tenere vi ricordo che possiamo sempre usare il doppio clic oppure tenendo premuto shift per trascinamento indicazioni sempre qui a sinistra possiamo sempre andare a correggere in qualsiasi momento prendiamo le zone che ci servono nella maniera più estesa possibile cerchiamo di evitare zone ruose o zone che ci darebbero soltanto dei problemi avanti facciamo la stessa cosa nell'inferiore adesso io lo faccio in maniera molto veloce poi logicamente voi potete farlo in maniera molto più precisa quindi possiamo anche eliminare i punti le prime volte vi consiglio comunque di andare con il con il doppio clic se non altro perché è un po più controllabile e andiamo a beccarci queste zone ok il pallino blu lo abbiamo spostato e andiamo avanti ci viene proposto in prima battuta una forma a parallele ma qui non ha nessuna importanza perché non lo dovremo usare come modello vero e proprio ma soltanto come appunto dicevamo prima come come restauro andiamo avanti ed abbiamo dei modelli con le zone riempite le zone che prima erano scoperte adesso sono riempite adesso lo andiamo a ridurre per il nostro per il nostro per il nostro scopo quindi scusate da modulo setup virtuale il nostro ben conosciuto tagli e chiudi linee di taglio spostiamo sempre il nostro pallino azzurro e qui andiamo a dare le dimensioni reali del modello che vogliamo è logico che se si tratta di un funzionale un frankel o altri dispositivi simili rimarremo il più largo possibile se ci serve per una normale placca magari potremmo anche stare un po' più stretti considerando il fatto che comunque la resina è decisamente più costosa di quello che era il gesso che usavamo fino a poco tempo fa andiamo a dare un po' di spessore all'altezza perché comunque in una fase successiva potremmo sempre diminuirlo e andiamo a deselezionare questo selettore per cui andremo a generare qui ci dice che la linea non è chiusa ecco qua andremo a generare un modello con la base aperta in modo poi di poterlo esportare e di dargli lo spessore che desideriamo ecco qui abbiamo il modello inferiore andiamo a fare la stessa cosa con il modello superiore scusate e perdonatemi ma lo sto facendo in maniera veloce per non farvi perdere per non farvi perdere troppo tempo inutile andare a rilevare zone che poi non ci servirebbero ok abbiamo già in memoria i nostri millimetri aggiuntivi deselezioniamo avanti e anche in questo caso abbiamo il nostro modello se avessimo bisogno di fare delle correzioni perché è una zona particolarmente rugosa o dovessimo togliere delle zone particolarmente brutte dell'impronta possiamo sfruttare dalla parte home quindi con le tre lineette del programma riparami mozione bracket in realtà servirebbe per togliere i bracket ma noi possiamo modificare qualsiasi zona del modello stesso per cui ammettendo che qui ci possa essere una zona particolarmente brutta seguendo seleziona tenendo premuto shift possiamo selezionare una zona la andiamo a togliere la identifichiamo perché in questo caso il programma ci identifica due zone aperte una è la base e l'altra è il buco andiamo a selezionare quella giusta e gli diamo il chiudi spazio per cui questa zona verrà chiusa se come nel caso dell'inferiore invece abbiamo questa zona magari da correggere perché ci fa comodo avere un po' di scavo come si faceva poi con i vecchi modelli in gesso possiamo fare anche questo con lo scalpello qui ci sono tutte le indicazioni per poter usare questo strumento shift possiamo aumentare la dimensione dello scalpello con la rotella del mouse e tenendo premuto la parte destra del mouse andiamo a scavare possiamo lisciare e se avessimo bisogno magari di aggiungere un'altra zona sempre con lo scalpello rimozione e aggiungi tasto sinistro del mouse vedete che siamo andati ad aggiungere una zona quindi possiamo correggere delle zone del modello o mancanti o in eccesso vi invito a stare un po' attenti perché non è che il controllo sia proprio come uno scalpello fisico per cui soprattutto le prime volte usarlo con un po' di cautela possiamo in qualsiasi caso tornare indietro diamolo avanti e noi abbiamo i nostri due modelli finiti in teoria pronti per la stampa ma noi vogliamo aggiungere anche il nome perché poi in stampa lo metteremo con altri modelli per cui non vogliamo confonderli per cui sempre dalla sezione home abbiamo anche qua la possibilità di aggiungere delle etichette selezioniamo il modello aggiungi etichetta in prima battuta ci dà il simbolo M3D e poi possiamo andare a sostituire la scritta lasciamo selezionato negativo perché è molto più comodo andiamo magari a dare un po' di spessore all'incisione in genere io metto un millimetro avanti e verrà generato il modello con la scritta in negativo possiamo farlo anche con l'inferiore ma qui risparmiamo un po' di tempo perché vorrei farvi vedere un'altra cosa molto interessante qui abbiamo già i modelli pronti per l'esportazione ma abbiamo un altro piccolo problema nel caso di apparecchi funzionali o di apparecchi bimacellari dobbiamo riportare tutto in articolatore come facciamo? riportare un'articolazione che ci è stata data in digitale fisicamente e qui vi faccio un piccolo spoiler per quanto riguarda il modulo byte by designer abbiamo la possibilità di generare un morso di costruzione doppio arco con posizionamento automatico questo cosa vuol dire? che per tutte le altre funzioni del modulo byte noi dobbiamo mettere dei limiti dobbiamo dare il disegno di quello che noi vogliamo produrre mentre invece in questo caso sarà automatico quindi praticamente avremo due piccoli giga di trasferimento che sostituiscono le vecchie cere di articolazione che verranno prodotti in automatico in maniera molto veloce selezionando appunto un morso di costruzione doppio arco posizionamento automatico verranno generati questi due piccoli pezzetti eccoli qua andiamo a vederli in maniera un po' più un po' più decisa eccoli qua che una volta messi in stampa possono essere applicati al modello e questo ci rende tutto molto molto più semplice e molto più stabile dei metodi che usavamo che usavamo prima ok quindi cosa facciamo adesso sempre da modulo by designer andiamo ad esportare questi due piccoli gig in file stl oppure qualsiasi file che possa essere supportato dalla vostra nella vostra stampante lo andiamo a mettere in una cartella già predestinata ok li andiamo a vedere dopo e adesso non rimane altro che esportare i due modelli veri e propri quindi da home tre net andiamo in esporta modelli di input ci dà questa videata dove ci chiede effettivamente la conferma che li vogliamo svuotati e la possibilità di variare la dimensione dello spessore del modello stesso io in genere uso due millimetri e mezzo avanti sempre nella stessa cartella ok adesso andiamo a vedere che cosa abbiamo prodotto andiamo a vedere l'arcata superiore andiamo ad aggiungere l'arcata inferiore eccoli qua vedete spessore che abbiamo stabilito poi cosa andremo a fare una volta stampati una volta stampati li andremo a riempire con del gesso il gesso darà struttura quindi se dobbiamo poi applicare della resina sopra il modello con le dovute cautele quindi con l'apposito isolante il modello avrà una struttura tale per cui non si romperà quando andremo a togliere la resina e nello stesso tempo renderà molto più facile l'applicazione dei modelli sull'articolatore con il gesso classico ok e abbiamo anche il nostro byte che potrà essere messo in stampa ed utilizzato in maniera molto molto semplice e molto comoda io vi ringrazio dell'attenzione vi do appuntamento alla prossima occasione alla prossima pausa caffè e arrivederci grazie